Accade spesso, c'è il momento del massimo clamore, quando questa o quella vicenda vengono alla luce e c'è poi l'oscurità che segue in favore di un'altra emergenza. Ma come nel caso della strage di multe da autovelox, qualcuno continua comunque a lavorare, ad occuparsene, anche quando il tema è lontano dai riflettori. Per esempio, si è tenuta questa mattina in provincia Pescara una riunione tecnica sull'evoluzione dell'autovelox sul territorio. L'autovelox di per sé è uno strumento che serve per regolare il controllo della velocità dei veicoli ed è giusto che ci sia, però deve essere pure posizionato laddove è previsto dal codice della strada. E nei limiti previsti dal codice della strada non è permesso e non è consentito, non ritengo ingiusto che ci siano delle autovelox posizionate su strade dove ci sono dei limiti veramente assurdi o addirittura in discesa dove è facile incappare nella violazione. Il codice della strada è stato studiato nel 1992 e i tecnici dell'epoca hanno studiato dei limiti proprio in virtù di quelle strade come erano fatte 30 anni fa e della tipologia dei veicoli dell'epoca. Oggi abbiamo dei veicoli nettamente tecnologicamente avanzati con ABS, ESP, gomme allargate, baricentri, strade allargate e abbiamo visto che questi limiti sono stati ridotti. Mentre invece laddove era possibile elevarli, tipo le autostrade a tre corsie, non sono stati elevati perché è una questione di voler colpire il cittadino. L'approfondimento che va fatto è sulla regolarità di queste installazioni. Ci sono due focolai ancora attivi, uno imminente a Pianella che ha sostituito l'autovelox fisso e si rinizia invece a parlare di un autovelox mobile. Mentre i accepagati hanno da poco installato l'autovelox fisso, così come in precedenza fu fatto anche per Scafa e per Pianella e poi hanno rimosso. Sono dei danni notevoli per tutta la collettività ma anche per il paese stesso. Faccio l'esempio di Scafa che conosco meglio. Scafa è un paese che ha subito 1.300.000 euro di contravenzioni e le amministrazioni hanno effettuato lavori per 900.000 euro di asfalti. È un modo di fare cassa addirittura a due mesi dal vuoto. Il cittadino deve sapere e soprattutto deve essere aiutato e l'aiuto che possiamo dare noi è andare a fondo alle questioni per evitare nuove installazioni. La nostra battaglia adesso sarà sicuramente ancora per Pianella, sarà per Pescara ma sarà anche per Cepagatti. Inoltre via di sotto è una strada di collegamento tra due comuni quindi a livello proprio di categorizzazione non può essere inclusa in quelli in cui va inserito un'autovelox. Dal punto di vista sicurezza oltre ad esserci delle strisce rinforzate e dei cartelloni illuminati che permettono l'attraversamento notturno in realtà è stato anche ampiamente dimostrato e verificato che non c'era assolutamente un tasso di alta incidentalità. Infatti sono andata anche a ricercare dati con molta fatica e anche con accesso agli atti che poi ho ricevuto dopo variate PEC ho rivelato che negli ultimi cinque anni via di sotto ha un tasso di incidentalità molto basso dunque non sussiste il principio iniziale per cui un autovelox possa essere installato.